La storica campagna di Lega Ambiente è dedicata al monitoraggio e all'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. Tappa anche al porto di Termoli per Goletta Verde che ha presentato i risultati prima dell'attracco dell'imbarcazione. Le analisi sono state effettuate il 24 luglio e hanno preso in considerazione il campionamento dei punti critici che vengono scelti in base a un maggior rischio presunto di inquinamento come foci dei fiumi, torrenti, scarichi e piccoli canali che spesso si trovano sulle spiagge. Oltre alla foce del fiume Biferno che ha confermato una situazione invariata rispetto al passato a causa della presenza di scarichi non depurati o illegale, sono tre i punti monitorati. Due sono stati giudicati fortemente inquinati a Termoli in un punto esaminato in località Baia Sud e sul litorale nord alla foce canale della Rotatoria. Entro i limiti invece i risultati sulla spiaggia del lungomare Cristoforo Colombo. L'appello è rivolto ai piccoli comuni come cittadini, ai piccoli comuni che diano un'attenzione maggiore ai depuratori perché quello è la parte fondamentale per avere un mare pulito, perché tutto ciò che vediamo in mare viene sversato dai nostri fiumi e da una cattiva depurazione. E un'altra cosa è dai cittadini che abbiano una tutela maggiore nel rispetto delle nostre acque molisane e sono fondamentali per la salute di noi stessi. L'Egambiente con i suoi volontari e le campagne organizzate nel corso dell'anno punta a promuovere buone pratiche, a coinvolgere le comunità in una gestione sostenibile del territorio. Le priorità ovviamente oltre a quello che è il carico degli inquinanti che arriva nel ecosistema marino sono anche con tutti i temi legati alle fonti fossile, al continuo sviluppo nei nostri territori, nei nostri mari di richieste che vengono fatte dalle compagnie petrolifere di nuove ricerche di idrocarburi, altro tema che mette profondamente a rischio il nostro ecosistema marino. Poi affronteremo il tema invece delle plastiche a mare. Questo è un altro tema importante perché poi queste sono plastiche che oltre ad arrivare nelle nostre spiagge arrivano nei nostri mari, si disgregano in microparticelle ingerite dai pesci perché scambiate per cibo e entrano poi nella nostra catena alimentare.